Benvenuti al Tg Riviera dei Fiori. L'ex presidente della provincia Gianni Giuliano e l'ex assessore all'ambiente e attuale assessore alla cultura della provincia d'Imperia Alberto Bellotti sono stati rinviati a giudizio per reati ambientali e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sulla discarica di Ponticelli, situata tra Imperia e San Lorenzo al Mare. La discarica di Ponticelli era stata chiusa e posta sotto sequestro nel 2008 in seguito alla contestazione di una serie di reati ambientali. Secondo l'accusa, l'ex presidente Giuliano e l'ex assessore Bellotti avrebbero di fatto autorizzato il conferimento dei rifiuti alla Ponticelli nonostante una serie di prescrizioni ambientali. Con loro sono stati rinviati a giudizio anche i legali rappresentanti della Ponticelli SRL. Cinque appartamenti pubblicizzati su diverse riviste in cui ragazze cinesi offrivano massaggi orientali e altre prestazioni non meglio specificate sono stati controllati dalla polizia a Sanremo e nei comuni limitrofi nell'ambito di un servizio contro l'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della prostituzione. In un alloggio a Sanremo gli agenti hanno sorpreso una ragazza cinese clandestina che offriva ai clienti prestazioni sessuali e con un supplemento di pagamento coinvolgeva anche altre amiche orientali. L'affittuaria dell'appartamento, una cittadina cinese di 47 anni, regolare in Italia, è stata denunciata per aver favorito l'immigrazione clandestina e agevolato l'attività di prostituzione. In un altro appartamento, in corso inglesi, gli agenti sono stati accolti da una ragazza cinese che li ha invitati a entrare con modi a farli abiti succinti per poi passare alla proposta di prostituzione. La ragazza è risultata clandestina e l'appartamento è intestato a un connazionale con precedenti specifici. Anche in questo caso è scattata la denuncia sia per sfruttamento della prostituzione che per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dei ragazzi cinesi clandestine di 36 e 40 anni sono state espulse. Diversa la situazione in tre appartamenti, invece sempre a Sanremo e a Taggia, dove le ragazze cinesi offrivano realmente massaggi ma senza alcuna autorizzazione amministrativa e igienica. Sono pertanto in corso accertamenti di carattere amministrativo e fiscale sia nei loro confronti che a carico dei proprietari dell'alloggio. Qualche tafferulio si è registrato questa mattina nella sede della Croce Rossa in Via Dante a Ventimiglia tra alcuni dipendenti, militari della Croce Rossa e un gruppo di rifugiati politici stranieri, soprattutto nigeriani, che da mesi si alternano nella struttura. Sul posto, per riportare la calma, sono intervenuti gli agenti del locale commissariato. Dal 28 giugno il centro di Ventimiglia ospita i migrati del Ghana, ma anche pakistani, nigeriani, libici e tunisini. La tensione è dovuta, sembra, a comportamenti troppo esigenti degli stranieri, dei rifugiati politici, che si sono lasciati andare anche ad atteggiamenti di insulto nei confronti dei militari. Il presidente provinciale della Croce Rossa, Vincenzo Palmiro, sottolinea come la situazione stia diventando insostenibile. Qualche straniero, o per stanchezza o perché da tempo è lontano da casa, non rispetta i militari della Croce Rossa. Se non ci saranno miglioramenti, è possibile che non possa continuare la collaborazione della Croce Rossa in questa opera di accoglienza. Cambiamo argomento. Sono sette le navi da crociera che a partire dal prossimo mese di agosto e fino al maggio del 2013, quindi nell'arco di un anno, attraccheranno a Sanremo. Ad annunciarlo questa mattina a Villa Zirio, sede dell'assessorato del turismo, è stato l'amministratore unico di Sanremo Promotion, Giorgio Giuffra, nel corso della presentazione del piano strategico di marketing per lo sviluppo del mercato croceristico nella città dei Fiori, a fronte del quale si prevede un incremento di 3 mila unità delle presenze turistiche su base anno. Vediamo il servizio. Sì, sicuramente il turismo croceristico è una risorsa per questa città. Sanremo Promotion sulla spinta dell'amministrazione comunale ci ha creduto. Oggi il risultato dice che sette navi da crociera proderanno da qui al prossimo 2013 nel Porto Vecchio di Sanremo. È una bella opportunità per la città, è una bella opportunità per il lancio turistico commerciale della città. Nel primo riscontro che abbiamo avuto abbiamo avuto relazioni positive, tanto vero è che sia la Seadream che la Seaborn hanno immediatamente posizionato alcuni scali su Sanremo. Sanremo è sicuramente una destinazione forse più conosciuta nel mondo inglese, nel mondo del crocerismo inglese che in quello americano. Però sono convinto che una volta testato ci sarà un riscontro decisamente positivo. I Seadream sono navi che sono state costruite in Italia una quindicina di anni fa per una clientela americana 5 stelle, portano circa 150 passeggeri, però è una clientela estremamente sofisticata. I Seaborn sono l'ultima evoluzione di un concetto di nave di 30.000 tonnellate di stazza lorda con un rapporto spazi passeggeri molto alto e quindi pur essendo di così grandi dimensioni portano 500 passeggeri, però hanno 400 membri di equipaggio. Quindi un impatto sul territorio sicuramente più significativo che non i Seaborn. Queste navi sono state costruite dei cantieri Mariotti di Genova e se non sbaglio il Seaborn Sejour ha non più di due anni di vita. Nel momento che siamo entrati nel settore delle crociere siamo resi conto circa dieci anni fa che si poteva diventare operatori di terminal in porti secondari dove i porti primari avevano già raggiunto una grossa, quasi un livello di saturazione. Per cui abbiamo sviluppato dal 2004 il porto di La Spezia dove non andavano navi da crociera e siamo riusciti a raggiungere il risultato di circa 100.000 passeggeri nel 2011 e per il 2012 si sono previsti significativi risultati. Lo stesso modello di business l'abbiamo replicato sul porto di Trapani che era di fatto abbandonato a se stesso dove non scalavano assolutamente più non solo navi da crociera ma nessun tipo di nave dove abbiamo costruito un pontile galleggiante, operiamo su una banchina di circa 150 metri e anche a Trapani nel giro di cinque anni abbiamo superato i 120.000 passeggeri. Poi abbiamo fatto un investimento su Carrara che sta faticando un po' di più ma comunque piano piano risulteremo, mi auguro, vincitori anche su Carrara e abbiamo allo studio un importante progetto su Chioggia che stiamo definendo e definiremo nei prossimi mesi. Dopo varie tappe internazionali in Europa ma anche negli Stati Uniti arriva a Sanremo la mostra Oro e Argento a Sanremo, in questo caso della pittrice e artista Maria Nardo. Una mostra che si tiene all'Hotel de Paris a Sanremo, un hotel appena rinnovato, una cornice splendida per questo tipo di iniziative. La mostra verrà inaugurata domani pomeriggio dalle 5 in poi e chiunque abbia la passione per l'arte è ovviamente invitata a partecipare. Sentiamo l'artista Maria Nardo. Tutto pronto per il vernissage dell'artista pittrice Maria Nardo qui all'Hotel de Paris di Sanremo, un hotel appena rinnovato, una location ideale per la sua mostra di quadri. Effettivamente questo è un vero gioiello che la città può vantare, è una location stupenda e io sono molto contenta per l'invito che appunto il signor Berio, il dottor Berio e il dottor Bessone e soprattutto la signora Parodi hanno deciso di organizzare questa esposizione. Un'esposizione dalla quale traspare il suo amore diremmo per il mare, comunque per la terra di riviera, per la Liguria potremmo sintetizzare. Sì, la Liguria è una delle regioni diciamo più belle d'Italia, io mi trovo benissimo anche se ho viaggiato moltissimo, ho visto delle terre splendide però la Liguria è veramente bella. Quale tecnica pittorica avremo modo di vedere qui ammirando i suoi quadri? Allora la mia tecnica è una tecnica mista e uso molto foglia oro, foglia argento, dei collage, diversi materiali quindi posso ottenere questa forma espressionista molto moderna. E poi ho presentato anche due opere, La Gioconda e La Dama con l'ermellino di Leonardo per dimostrare che insomma il disegno c'è perché alla base ci deve essere il disegno, infatti io penso di essere nata già nel DNA con il virgulto diciamo della pittura, il germoglio della pittura, però poi ho frequentato l'Accademia di Venezia e anche diversi maestri, ho frequentato lo studio di Utuso a Roma e poi molti altri maestri e l'ultimo mio maestro è stato Michele Cascella che si era raccomandato di seguire la sua strada ma io come tutti i pittori con l'animo che si ribella a tutto io desidero insomma seguire la mia personalità e quindi queste sono opere della mia personalità e mi riferivo appunto prima a Leonardo che ho portato due pezzi di Leonardo come le ripeto per dimostrare che uno sa anche disegnare perché poi invece quando arriva a questi livelli qui il disegno oramai se lo dimentica ed è solamente un'espressione di ciò che è nell'animo dei personaggi. C'è qualcuno di questi quadri che la passione in particolare o che ha una storia particolare? Ma veramente io li amo tutti e sono tutti stati momenti particolari, non c'è un pezzo che non abbia avuto una storia a monte. O molto triste alle volte o anche molto felice e quindi io mi sono espressa così. Ecco vi ricordiamo l'inaugurazione domani pomeriggio alle 17 all'Hotel de Paris a Sanremo. Adesso vi ricordo invece l'appuntamento subito dopo il notiziario con la nostra trasmissione sportiva Sport TV. Vi lascio per il momento con il meteo di Achille Penelatore. Buona serata. Non cambia la situazione del tempo, siamo sempre governati dalla grande depressione sull'Inghilterra in cui c'è una depressione satellite sul nostro Golfo di Genova che mantiene condizioni di instabilità qui sul Ponente di pomeriggio in montagna lasciando libera la costa. Mentre invece sul resto della Liguria oltre ad avere l'instabilità in montagna c'è qualche sconfinamento anche sulla costa. Ma andiamo incontro all'arrivo di una perturbazione fronte caldo e fronte freddo e fronte occluso nei prossimi giorni. Non sarà granché perché non è di intensità di quelle non indimenticabili però qualche disturbo nuvoloso e forse qualche precipitazione ce la darà. Vediamo adesso l'animazione del satellite. Vedete che la trottola continua a girare, le nuvole risalgono, girano intorno alla depressione, poi ridiscendono dall'Atlantico, entrano dalla bocca di Carcassonne, dalla porta di Carcassonne e le nuvole interessano le nostre zone. Ripeto, più che altro qui sul Ponente nell'interno. Andiamo alla prima cartina domani, sabato alle ore 14. Vedete che in questa circolazione è incluso questo fronte caldo e poi arriverà il fronte freddo. Però per domani, sabato, innanzitutto bisogna dare un aumento della nuvolosità. Quei fronti caldi generalmente sono nuvole medio-alte stratificate. Magari c'è anche qualche nuvola bassa, un imbostrato che potrà dare qualche precipitazione debole. Niente di che. Il vento da ovest e sud-ovest generalizzato, 10, 29, 25, 30 a largo, il mare mosso, molto mosso, localmente agitato a largo, le temperature praticamente stazionari nonostante ci sia un fronte caldo. Adesso andiamo alla cartina di domenica, sempre alle ore 14. Il sistema frontale se ne va verso la Ex-Yogoslavia. Anche il fronte freddo interessa qui altre regioni quasi sull'Adriatico, mentre noi avremo a che fare, lo vedete qua, con l'occlusione, la ritornante occlusa. E questa genererà per domenica pomeriggio di nuovo instabilità, in sconfinamento da monte verso mare, probabilmente qualche piovasco e un colpo di tuono anche sulla costa. Dopodiché il vento da sud-ovest diventerà un pochino più settentrionale, maestrale, tramontana, ma debole, 10, 20 nodi e il mare sotto costa stirato resterà molto mosso a largo. L'ultima cartina che vi faccio vedere è quella di lunedì, una situazione di intervallo con schiarite ampie, persistenza di nuovo, anzi di nuovo vento da ovest, sud-ovest, 10, 20 nodi, 25 a largo, però vedete qua che per il martedì si avvicina un altro sistema frontale. Di questo probabilmente ne riparleremo lunedì. Per ora grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo fra un po' in Sport TV. Grazie a tutti per l'attenzione.